Giornata della prevenzione gratuita domani a Sciacca nei locali del poliambulatorio del distretto sanitario dietro la chiesetta dell'ospedale Giovanni Paolo II. A partire dalle ore 9 fino alle ore 18 sarà possibile sottoporsi gratuitamente a visite specialistiche con esami strumentali di cardiologia, dermatologia, pneumologia, odontostomatologia, oncologia, oculistica, reumatologia, urologia, chirurgia generale e ortopedia con la collaborazione anche di un podologo per il piede diabetico e di un nutrizionista. L'iniziativa è promossa dal distretto sanitario di base di Sciacca guidato dal direttore, il dottore Giuseppe Loscalzo. Domani ci sarà questa grossa manifestazione che è stata voluta dal distretto, da tutti i dirigenti medici che collaborano con me e abbiamo trovato la massima disponibilità, dobbiamo dire, da parte degli specialisti che sono proprio contenti di questa grossa manifestazione che vedrà impegnati tutti gli specialisti, tutti gli infermieri in questa campagna di prevenzione. La campagna di prevenzione naturalmente riguarderà tutte le branche specialistiche e aperta a tutta la popolazione di Sciacca e dintorni. L'obiettivo di questa iniziativa è proprio quella della prevenzione, molto importante è la prevenzione in campo medico perché il compito del medico non è solamente quello di curare ma fare anche una prevenzione. Questa prevenzione non è delegata solamente al distretto ma è delegata anche ai medici di medicina generale che giornalmente si approcciano con queste problematiche che mandano i pazienti ad effettuare le visite specialistiche allorché c'è un campanello di allarme. Prevenire una malattia è un bene non solo per il paziente ma anche per il sistema sanitario? Certamente, è principalmente un bene per il paziente perché non infigia poi la qualità di vita del paziente se dovesse andare incontro all'evolversi oppure alla presentazione del caso della malattia. Eppure è un risparmio sicuramente per il Servizio Sanitario Nazionale perché un giorno di degenza sappiamo quanto costa al Servizio Sanitario Nazionale con dei periodi particolari di crisi che noi viviamo sia a livello nazionale sia a livello regionale. Sarà possibile trovare questi medici, questi specialisti domani per quasi tutta la giornata nei locali del poliambulatorio? Inoltre, questa iniziativa all'interno della struttura del nostro poliambulatorio inizia alle ore 9 per concludersi alle ore 18. Io vorrei dire che questa iniziativa è stata sponsorizzata anche da diversi sponsor che hanno messo a disposizione qualche cosa proprio per la logistica eppure è stata autorizzata dalla direzione strategica aziendale, dal nostro direttore generale il dottore Capodieci e dal direttore sanitario il dottore Elia che hanno applaudito a questa iniziativa che è stata intrapresa all'interno di questa struttura poliambulatoriale. Ricordiamo anche che l'ingresso è libero, non occorre alcuna prenotazione. L'ingresso è libero, tutte le persone potranno venire e saranno effettuate le visite regolarmente.